Ciao a tutti ragazzi, volevo fare una partita così, molto veloce Uh, qua c'è gente anche tosta sinceramente Vabbè, la lag è normale Qui c'è gente che gli fa schifo riparare Qua abbiamo già lo scudo del drago pronto E ne approfittiamo Questa la prendiamo noi Insieme a qualcos'altro Ad esempio questa dai Ho già richiamato il modulo Bene, l'ha già attivato Via da qua! Tempo di saldi Saldi Eh, perfetto Ma perfetto Noi non ci vogliamo mai Andiamo 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 Aspettatemi che arrivo, arrivo Noi non ci vogliamo Ok, bene, è ora di andare Perché dovete sapere che è risaputo che i nazisti addomesticassero Draghi per riuscire a vincere la battaglia di Stalingrado Capito? È risaputo Ok, bene Temporeggiamo, temporeggiamo e ci giriamo Bene Abbiamo finito le munizioni, signori Bene, adesso anche lo scudo, ce ne andiamo E quando dico ce ne andiamo, vuol dire proprio che ce ne andiamo Completamente Oppure Oddio Ok Bene Fatto Ok 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 Anni! Zomper! Oh cazzo 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 Ehi! Compagni! Mi servirebbe un nuovo nucleo energetico per le armi Il mio che non mi dà Avete rianimato? Ancora no Questa è una cosa bella vedete Proprio no Bene Ora sicuramente ci siamo messi meglio di prima Per spazio Qui proprio no Ok Siamo qui Ok 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 Alright Ok 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 il buon mustafa compra di qui e compra di là vuoi vedere che anche hostia butta giù tutta la partita vuoi vedere oh mio dio e noi cosa dobbiamo fare adesso ok bene possiamo dire addio alla nostra partita